ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video anche questo video lo realizzo in auto perché a casa ci sto poco e niente in questo periodo pazienza però i video esperienziali li devo fare non ho tempo di registrarli a casa e quindi ve lo propongo così allora sono andato un po in giro per testare la sim di copvoce ho già fatto un video a casa mia come prende copvoce vi ricordo che copvoce nonostante comunque sul sito ci sia scritto che ha un limite di in download di 100 megabit al secondo in realtà sono 300 megabit in teoria raggiungibili come velocità massima allora come ho detto tantissime volte purtroppo anche la rete team con questo viziaccio di avere bts in bibanda anche dentro una città in una zona residenziale altamente abitata vicina alla seconda stazione ferroviaria di palermo per importanza troviamo bts in bibanda quindi sature oppure che comunque non hanno un grosso potenziale e infatti adesso vi farò vedere degli speed test dove agganceremo due bts vicine entrambe bibanda in una zona dove minimo dovrebbero esserci quattro bande minimo quattro bande vediamo com'è andata allora ragazzi ditemi voi se vi sembra una cosa normale che in pieno città abbiamo solo due bande di team vi faccio vedere pure dove sono io sono qua si aggancia questa bts che ha solo due bande più avanti ce n'è un'altra che ha solo due bande ditemi se in una città di più di 600 mila abitanti residenti più quelli che ovviamente ogni giorno si riversano per lavoro e per altri motivi in città sia normale che in piena città zona residenziale ci siano bts di banda e facciamo anche lo speed test sempre vodafone milano come punto di riferimento e queste sono le splendide velocità di cop voce ma sul rete team con due bande ovvio che c'è saturazione cioè ditemi se è una cosa normale io veramente non ho l'apploat più alto del download significa saturazione io veramente rimango senza parole mi sono spostato di qualche centinaio di metri ma massimo 200 metri più avanti per agganciare l'altra bts di banda adesso abbiamo la 601 105 vi faccio vedere vedete adesso abbiamo agganciato l'altra quella sopra ovviamente siamo proprio qua dopo accanto questo è il puntino sono accanto alla bts abbiamo un'altra bts ovviamente in b banda andiamo di speed test questa è più libera 72 megabit c'è basta spostarsi 200 metri ma sempre b banda e quindi a rischio di saturazione cioè non cambia la situazione ditemi voi se i 300 megabit di cop voce che dovrebbe avere sul rete team sono rispettate o minimamente avvicinabili impossibile avendo b banda avete visto nella bts precedente cosa abbiamo avuto praticamente innavigabile andiamo a riguardare se ha cambiato nuovamente mi sembra di no no bts accanto ok avete visto anche voi allora il problema di team non è sicuramente almeno nella città di palermo ma anche in giro per per l'italia il fatto che le bts non siano fibrate perché team ne ha moltissime fibrate team purtroppo è rimasta a tantissimi anni fa mantenendo la maggior parte delle sue bts in italia quindi parla a livello statistico in italia mono o bibanda questo è il numero maggiore delle bts del numero di bts che ha team in italia sono o bibanda o monobanda la stragrande maggioranza potete andare a vedere sul sito di lte italy quindi la statistica anche operatore per operatore andando a vedere come è distribuita la percentuale delle bande sulle bts a livello italia hanno un bellissimo specchietto dove c'è la percentuale di quindi per ogni operatore di quante bande in percentuale montano sulle bts wind 3 è quella che ha la maggior parte delle bts tra minimo quattro bande poi c'è anche alla quinta in 4g dappertutto però come abbiamo visto dipende da in che regione d'italia ci troviamo non sono fibrate infatti come sapete nella mia città hanno tutte quattro bande sono pieno di bts le velocità le avete viste nei miei video se non le avete viste andatela a vedere perché vi ho dimostrato le velocità non solo in 4g ma anche in 5g ahimè anche in 78 che cosa sono di wind 3 bene team nonostante il suo enorme potenziale il quindi potrebbe avere montare tutte le bande che vuole perché a licenza e larghezza di banda per ogni frequenza infinita ha la possibilità di montare il 5g dappertutto in n78 e anche in futuro in 700 mhz con una larghezza di banda enorme 80 mhz come vodafone ma in realtà non è così non è così perché ancora per esempio a palermo in tantissime infinite zone d'italia non c'è il 5g e poi mi avete anche testimoniato che dove c'è il 5g ad esempio che va benissimo quello di team va benissimo basta spostarsi un centinaio di metri si collega un'altra bts che magari è b banda e passi da 800 megabit al secondo a 20 megabit al secondo questo perché perché non hanno minimamente implementato quello che è il 4g in italia è l'unico operatore che non l'ha fatto vodafone al contrario quando ha spento anzi prima quando aveva già programmato di spegnere il 3g ha potenziato e rimodernato totalmente tutte le sue bts o quasi tutte e continua a farlo nel territorio italiano donando almeno un 4g di molte bande almeno quattro o tre bande anche cinque in alcuni casi e il tasso di bts fibrate di vodafone è altissimo come anche quello di team solo che team non ha anche se ce le ha fibrate non non c'ha praticamente le bande cioè siamo al ai primordi del 4g quando si aveva solo uno o due bande sono rimasti tali questo nella maggior parte del territorio tutto questo non ha nulla a che vedere con la copertura io faccio sempre la distinzione tra copertura ovviamente prestazioni c'è in parole povere ili ad è in fase di sviluppo e lo conosciamo vi ho fatto tantissimi video delicati e via dicendo nella mia città praticamente che è la quinta città d'italia per numero di abitanti ok l'unico operatore veramente che va bene e che va veloce vodafone perché vodafone ha fatto un lavoro eccellente e così nella maggior parte dei casi ora come al solito so che molti mi commenteranno da me non prende di quella è ovvio che non può essere tutto il territorio eccellente questo per nessun operatore mi fa pure arrabbiare il fatto che wind 3 in certe regioni come vi ho testimoniato pure altre volte vada benissimo anche solo col 4g invece qui da me nonostante sia l'operatore che il maggior numero di antenne e su ogni antenna ci sono almeno quattro bande ma malissimo perché o non sono fibrate collegate tutte tramite ponte radio ad una eventuale bts fibrata quindi oltre il suo carico deve smaltire anche quello delle altre collegate con saturazione impressionante team ha sempre le sue antenne b banda anche dentro una città importante grande come palermo che ovviamente vanno in saturazione e questo è il risultato che con poco voce io non riesco a raggiungere velocità che dovrebbero essere interessanti mentre voi mi testimoniate che in altre zone d'italia dove c'è dove ci sono quattro banche a palermo ci sono le quattro bande ma io invece andarmi a cercare quella con le quattro bande perché è facile andare a cercare vi voglio fare vedere la realtà vi ho fatto vedere dove mi trovo è nella zona dove mi trovo che è una zona residenziale di anche diciamo un certo livello quindi diciamo non un quartiere popolare ma abitato pieno di uffici e vi dicendo questo è il servizio che offre team che ovviamente stiamo testando coppo voce ma coppo voce dovrebbe andare a 300 megabit al massimo quindi abbiamo visto che a distanza di 100 200 metri siamo passati da 6 megabit a massimo 70 megabit quando va bene questo non è accettabile da quello che dovrebbe essere il primo operatore italiano questo non accade minimamente mai con vodafone dentro la mia città iliad è in fase di sviluppo quindi sappiamo che dipende dove che siamo poi manca la b20 vi dicendo tutti i discorsi che abbiamo fatto che gli hanno tolto il secondo blocco in b7 ho fatto anche di questo dei video recenti praticamente iliad è molto più probabile che vada più veloce girando per la città di team e in molti casi anche di wind 3 quindi paradossalmente l'operatore che è dotato di meno quindi di sole tre bande con una larghezza di banda per ogni banda di 10 mega supera le velocità anche di wind 3 di team non su tutte le antenne perché anche a palermo ci sono le antenne con quattro bande ma non sono il numero sufficiente per come dovrebbe essere coperta una città una quinta città d'italia per abitanti non stiamo parlando di una zona rurale o un paese sperduto nelle montagne che non ha bisogno di quel tipo di copertura di di numero di bande se ne stanno altamente fregando questa è la realtà vi ho fatto vedere questo esempio appunto per dimostrarvelo bene io vi chiedo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati sulla pubblicazione dei miei nuovi video sono presente su instagram all'indirizzo mail che trovate giù in descrizione se volete passare a un mobile o a veri mobile c'è il mio codice invito giù in descrizione che vi dà la possibilità di ricevere 5 euro in omaggio con veri mobile nel momento in cui attiverete la sim con o mobile dopo il primo mese quindi alla prima ricarica se volete supportarvi c'è anche il mio referral link che vi riporto da amazon tramite il mio referral link potete fare gli acquisti senza spendere un solo centesimo in più ma supporterete il canale sono molto pochi quelli che lo fanno cioè non vi costa assolutamente nulla io cerco di darvi il massimo e lo sapete mi impegno tantissimo ma che vi costa è gratis e iscrivetevi pure a questo canale c'è molta gente che guarda i miei video e non si iscrive al canale che devo dirvi grazie vabbè lasciamo stare con questo nuovo report io vi ringrazio per l'attenzione un abbraccio e un saluto da giuseppe al prossimo video